Salve a tutti, popolo del web. Rieccoci in un nuovo video, l'argomento che discuteremo tutti insieme, calcio-mercato. Eh sì, la notizia è molto appetitosa. La squadra è il Milan. Ormai la notizia già si è sparsa da un po' sul web che Gigio Donnarumma vuole dire addio al Milan. Ne discuteremo tra qualche istante. Mi raccomando di mettere like al video, cosa molto importante. Iscriversi al canale per non perdere le news dei video. La notizia è una notizia davvero interessante. Di calcio-mercato. Gigio Donnarumma vuole dire addio al Milan. Suo procuratore, Mino Raiola, aveva chiesto 12 milioni di euro per il rinnovo. Il Milan, sinceramente, non è tanto d'accordo. Quindi sicuramente le strade si divideranno. Quasi per certo. Ma non solo. Nel futuro di Gigio Donnarumma c'è la Juventus. perché si sa che la Juventus lo vuole a Gigio Donnarumma tra i pali. Infatti il portiere attuale della Juventus, Scesni, ha molte offerte. Quindi questo affare di mercato si farà sicuramente. Attenzione, attenzione. Il Milan ha due giocatori in scadenza di contratto. E sto parlando di Ibrahim Diaz e Cialanoglu. Per Cialanoglu si sa che andrà via dal Milan. Invece per Ibrahim Diaz stanno convincendo il giocatore a rimanere. Ma non è una cosa facile. Vite ragionati su questi ultimi due. Tra Ibrahim Diaz e Cialanoglu. Invece per Gigio Donnarumma, o mai è fatta? Gigio Donnarumma e il Milan, le strade si divideranno. Eh sì. Mentre per Gigio Donnarumma, destinazione Juventus. E sappiamo che Mino Raiola su questo è molto bravo. Chi vivrà vedrà, vi terrò aggiornati. Siamo giunti al termine di questo nuovo video. Mi raccomando condividiamo il video sui social. Facebook, Twitter e Instagram. Io vi voglio bene a tutti. Ci vediamo al prossimo video. Grazie. 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 Grazie.